come viene convalidata una transazione non vi preoccupate se sentite dei nomi delle diciture che non conoscete il termine o il funzionamento perché in questa playlist li riprenderemo in singoli e specifici video i meccanismi di consenso sostanzialmente vanno a verificare che tutti i nodi abbiano la stessa versione della block chain il meccanismo di consenso va a verificare a confermare che tutti i nodi della medesima rete abbiano la stessa blog chain scritta la funzione esce l elemento chiave di una blog cene è una funzione matematica che converte qualsiasi dato in un numero per appunto l'esce un esce non può essere riportato ai dati originale ma se cambi un beat in qualsiasi punto dei dati originali l'intero valore del hash cambia come potete vedere nell'immagine in sovraimpressione quando invia una transazione a una block chain viene trasmessa a tutti i nodi di maini o validatori e va ai loro men pool ovvero una sorta di area di attesa ogni nodo aggrega un batch di transazione in un blocco bozza per la block chain e cerca di estrarlo successivamente vengono sommate tutte le transazioni nel blocco questo numero viene aggiunto al contenuto con un esce del blocco precedente che viene quindi sottoposto al processo di ashing il nodo confronta l'esce risultante con la difficoltà attuale e la difficoltà è una misura un numero con cui viene confrontato ogni è che viene calcolato se l'esce è inferiore a un determinato target il minatore con validatore è abbastanza fortunato da aver estratto il blocco se l'esce supera il numero il minatore va a incrementare il blocco di uno e calcola nuovamente l'esce e così via milioni di volte al secondo non appena un nodo estrae un nuovo blocco lo trasmette a tutti gli altri nodi della rete tutti gli altri minatore i validatori smettono di cercare di generare il nuovo il blocco su cui stanno lavorando e si mettono all'opera sul blocco successivo vanno a includere questo blocco all'interno della loro block chain e si mettono all'opera nella creazione del blocco bozza successivo una volta che questo nuovo blocco appare nelle bloccine di più nodi allora viene convalidato il blocco e le transazioni o comunque quello che va a contenere potremo riassumere questo concetto dove per creare un elenco di nuove transazioni un nodo di convalida va a risolvere un complesso problema matematico con la forza bruta una volta che la forza bruta ha successo le transazioni vengono include in una block scene mentre gli altri nodi vado a interrompere il processo di forza bruta che stavano utilizzando per andare a creare quel nodo includono le nuove transazioni nella loro copia della block scene avvigiano un nuovo processo di forza bruta per andare a convalidare un nuovo nodo tutto questo meccanismo sofisticatissimo va a servire per proteggere la block chain ma soprattutto per andare ad evitare l'attacco è una doppia spesa infatti senza questi tipi di protezione dei malintenzionati potrebbero spendere le loro cripto valute inviare le transazioni alla block scene poi andare a scrivere una nuova versione della block scene e andare a rispendere le stesse cripto valute vengono sviluppati diversi metodi di consenso per andare a ovviare questo problema che vedremo nei prossimi video